Come facessimo gol, ce la facciamo subito questa cosa tutti Allora io Crosso, colpo di testa GOOOOOOL Ancora un altro Un altro di qua Ok, vediamo se è avvenuto qualcosa Perché ci siamo, stiamo per iniziare Notaio, conferma? Sì Una cagata la prima Questa no Questa è bella Beh, più bella la prima Basta Va bene Eh ma se adesso tu ne fai una da lì, tu, falla tu Eh, col tuo, col mio Un altro gol, tre Un altro gol, tre, due, uno Ma che gol è? Gol dell'avversario, porca macchina Gol nostro Uno, due, tre Eeeeeeeh Ok E questo è molto affine anche con quello di Robin Che quando parliamo di clienti e di aziende Noi parliamo sempre di persone Persone che fanno attività di business In questo caso con altre persone Quindi se noi, al posto di parlare di aziende, a parlare di clienti, a parlare di persone Allora possiamo identificare i comportamenti che queste persone hanno E il nostro mestiere è quello di trovare il modo migliore per coinvolgere queste persone Costruendo per loro un racconto che sia interessante, no? Per loro E in modo tale che siano loro a venire verso i nostri clienti in persona L'azienda E siano loro a interessarsi ai loro servizi e prodotti qualora ne hanno effettivamente bisogno E noi lo facciamo attraverso Utilizzarlo tutti Tutti i cani digitali Non è sempre semplice provare la ricetta perfetta per ottenere dei risultati E spesso lo facciamo insieme ai nostri clienti Perché non esiste una ricetta perfetta Sono sempre dei progetti che sono customizzati E anche tutto questo ci troviamo sempre molto affini con Robin Perché non esiste una ricetta perfetta L'unico modo è ascoltare il cliente Capire quali sono le sue esigenze E insieme a lui andare a costruire un percorso Che possa essere apprezzabile per i suoi clienti Che parte sempre dal presupposto del Devo risolvere il problema del mio cliente Non parte dal Devo vendere un prodotto Devo vendere un servizio Seguendo appunto Robin Da qualche anno Ci abbiamo trovato molte affinità Con il suo modo di pensare Lo conoscevo L'avete appena conosciuto Anche il modo di comportarsi Robin non è mai Io l'ho chiamato rock Non è mai mainstream Non è mai banale E anche quando recensisce Anche degli strumenti Non lo fa mai in modo neutrale Prende sempre una parte E questo ci piace molto Quando abbiamo capito Che avevo scoperto Che aveva pubblicato Il nuovo libro E sta appunto Prendendo in vari luoghi d'Italia Ci è piaciuta l'idea E l'abbiamo ospitato Perché vorremmo condividere con voi Quello che è il suo pensiero In quale appunto Ci sentiamo assolutamente affini Quindi io Mentre di parlare Lo entro qua Robin Wood Mi piacerebbe un sacco Poterti conoscere di persona Non l'ho detto a te Perché ancora non eravamo In rapporto Ma l'ho detto in generale A chi mi seguiva E quindi ho invitato Da tutte le parti d'Italia Chi voleva avermi nella sua città E aveva un amico Che aveva un locale Una libreria Il teatro comunale Lo zio che lavora La camera di commercio Di trovare uno spazio E un posto Dove mettermi a dormire Eppure di pagarmi Un treno Per arrivare Dalla tappa precedente A questa Quindi Non dovete dire Tanto grazie a me Ma a quel signore Che è venuto prima Dovete veramente ringraziare Perché è grazie A lui E al suo staff Che si è fatto avanti Spontaneamente Che io sono qua Loro hanno organizzato tutto Hanno messo lo spazio A disposizione Io non gli ho chiesto Un centesimo E facciamo questa cosa Un po' con uno spirito Di amore Usatevi di usare questo termine Fuori dai canoni Per chi si occupa Di marketing Content marketing E tutte queste cose Un po' Margaret Perché veramente Il mio piacere Mi piacerebbe aprire E chiudere così È stare insieme Alle persone Condividere le cose Che scopro Non mi frega Un tubo Di guadagnare Un milione di dollari Anche perché Li ho già guadagnati Li ho già spesi Ma mi interessa Crescere Far crescere Soprattutto Se no non mi chiamerei Robin Hood Quelli che sono I piccolini Quelli che sono Quelli che normalmente Non vengono Categorizzati Come I missili del futuro Ma che spesso Perché Lavorano in delle situazioni Abberranti Fastidiose Dove Il lavoro È una cosa Che alla fine Finisci per odiare Quasi Ce ne sono tanti Seduti qua Io sono Rappresentante Sono un paladino Di questo piccolo esercito Di persone Che vuole fare Di meglio Non solo in proprio Ma anche per l'azienda Dove lavora Vuole cercare di far sì Che il lavoro Non sia soltanto Un mezzo Per spremere i soldi Dei portafogli Degli altri Ma sia un mezzo Anche per fare qualcosa Che ti piace E che crei qualcosa Che rimanga utile Nel tempo La mia ispirazione Viene da Un signore Che si chiama Francesco Questo signore A 47 anni Compiuti Con una moglie Due figli Si era scassato Così tanto Della sua situazione Lavorativa Che ha deciso Di mandare A quel paese Tutto quello Che aveva fatto Fino a quel momento Non in maniera drastica Brutta Antipatica Ma Decidendo di dare Un taglio netto E definitivo Al lavoro Come spesso La maggior parte Di noi Si trova A fare A me piacerebbe Sentire Dalla tua voce Quale potrebbe Secondo te Essere un motivo Così forte Così forte Così fastidioso Un rodimento Nella parte posteriore Così Prizzicoroso Per cui Uno decide Di cambiare Integralmente Quello che fa C'è qualcuno Che si vuol fare avanti E dirmi Tipo Andrea Perché mai Uno decide Di cambiare Completamente Quello che fa Nella vita Cosa che ti può Far rodere Il sedere Così tanto Da dire Basta A renderti conto Che stai facendo Arricchire qualcuno E non te stesso Carla Posso interromperti Assolutamente Secondo te C'è qualcosa Che quando tu lavori Dici io di questa cosa Non ne posso più Ma quando Quando non mi piace più Non ho più la motivazione Non ho più lo stimolo Tu Enrico Vai alla grande Quindi ci sarai passato prima Direi Quando Ti rendi conto Che Sono più L'attività che fai Per una facciata Che non per Portare valore Alle persone Ah ridilo un po' Sono più le cose Che fai Per una facciata Che per portare valore Alle persone E perché mai Barbara Uno dovrebbe Preoccuparsi Di questa facciata Che serve Cioè C'è senso Quello che lui ha detto Per te E tu Cosa Quando Tuo nipotino 12 anni Zia Che vuol dire La facciata Tu cosa gli rispondi Cos'è questa facciata Non ti voglio mettere In difficoltà Vladimir Mi immagino qualcosa Di utile A livello Lavorativo Federica Il primo contatto Che hai Con 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 la persona Con cui comunichi Cioè Un primo Una presentazione Un primo approccio Non so Vali I principi Che Questa facciata Ma chi è che la Sa bene Che cos'è Questa facciata Mai sentita Le facce perplesse Ace Dov'è Qua Alessandra Dice qualcosa Questa facciata Cos'è sta facciata Di cui ha parlato Enrico Voi non ne avete mai Sentito parlare Sì Le formalità Ma quando parliamo Di comunicazione Online Alice Di Questa facciata Si traduce In che cosa Ciò che gli altri Vedono E ciò che Arriva agli altri Quindi Mi sembra di capire Cerchiamo Di stringere Che Per idea Com'era la frase Quando Quando Ti rendi conto Che molte Attività che fai Aziendali Sono più Per facciata Che non per portare Valore Allora Lui ha detto In italiano Che Mi rompo Le palle Di fare una cosa Se la faccio Solo per mostrare Agli altri Che sono Figo Bravo Campione Eccetera Ma questa è realtà Una facciata Per poi Vendere Promuovere Fare marketing E nella realtà Io non sto facendo Niente Di utile Per le persone Alle quali sto mettendo Ad avanti questa facciata Che è quello che facciamo Praticamente tutti quanti Quando andiamo su facebook O sul nostro blog O sul nostro sito Perché Ci hanno detto Ah C'è l'attività Come non c'hai il blog Ah Devi scrivere Tutti i giorni Dai Ah ma tu Vendi online Ci deve avere la app Deve mettere dentro Tante cose E quindi poi noi Non ci facciamo Tante domande Siamo un po' Superficiali In questo Non mettiamo In discussione Abbastanza Ce le beviamo tutte E andiamo lì A postare Migliaia di cose I primi 5 6 7 giorni 2-3 settimane Fantastico E poi Mo che cosa scrivo Mo che cosa gli dico E mo chi lo scrive Quest'altro articolo E Lì Viene fuori una facciata Perché stiamo riempendo Lo spazio Semplicemente Per farci conoscere Perché ci hanno detto Che si fa così Ma se tu ci rifletti Un attimo Quello che mettiamo fuori Nei nostri post Nella maggior parte Dei nostri promozioni Sono semplicemente Chiamate alle armi Di gente Che non stava lì A aspettare noi Quindi non è che Se strilliamo di più O diciamo delle cose Scritte maiuscole O ci mettiamo più Punti esclamativi Viene più gente Perché non stiamo Dando niente Come dice Enrico Stiamo mettendo fuori Solo una facciata Per vedere Se sono hygienist Che c'è sempre il sorriso Tutto Instagram Uno dopo l'altro E così Pensiamo che da lì Nasca qualcosa Insomma Torniamo a questo mio amico Che si chiamava Francesco 47 anni Mogli due figli Mollo tutto Perché Guarda Te li dico Così facciamo prima Si era rotto I I Gabbasisi Questo signore Perché Uno Per farsi pagare Per farsi pagare Che la prima cosa Per fare un business Bisogna farsi Un bucio di culo Tanto Perché Non si sa Per quale motivo Qui Cominciano da quelli là Che lavorano Nei ministeri Nei grandi enti Eccetera Ok Ma state scherzando Noi paghiamo Sei mesi Oh ma che sei mesi Io ho fatto già Il lavoro E poi continuano Con gente Che se ne approfitta Gente Che se li spende Prima che tu Gli possa chiedere Gente che Lo fa apposta Quasi Di trovare Scamotage Per farti lavorare Di più E non pagarti Mai Quanti di voi Hanno vissuto Situazioni Dove questo Rincorsa Ai soldi È diventato Una vera Rottura Di palle C'è qualcuno Qui Ma beati voi Che qua a Modena Pagano così Presto Oh Perché io Sono dovuto Andare in mezzo All'oceano Atlantico E cambiare vita Per ottenere Queste cose Poi invece Siete stati qua E le avete ottenute Bravi Un'altra cosa Che ha fatto rodere Tanto il sedere A questo signore È che Se Non riesci a trovare Un tuo settore Un posto Dove tu puoi fare Quello che ti piace Veramente fare Quindi una tua impresa Quando vai a lavorare Per gli altri Nella maggior parte Dei casi Ti spremono Come fossi Un po' Un pelmo rosa Proprio Dalla mattina Alla sera Tutto è da fare Per ieri Un po' più svelto Ancora non hai fatto Come mai E che tu lo faccia Subito Per ieri In cinque minuti Fatto benissimo Una cacata È sempre uguale Per loro Basta che lo fai Che noi lo dobbiamo consegnare Quanti di voi Hanno questa situazione familiare Qua a Modena Sempre solo in mezzo All'Atlantico Mazzà Siete molto fortunati Fatto sta Che Gente che non paga Lavori che non premiano Poca meritocrazia Effettiva Poca possibilità Di fare realmente Le cose che possiamo fare bene Che ci piacciono Hanno fatto sì Che questo Francesco Decidesse a un certo punto Di mandarli tutti A quel paese Perché Francesco Tra l'altro Non è che era una pippa Uno incapace Un ribelle Aveva provato A lavorarci Per queste aziende Aveva lavorato Nel campo Dei video Della televisione Delle agenzie Di pubblicità Delle organizzazioni Di promozione Perfino era andato A lavorare Per le organizzazioni Che dovrebbero stare là Per fare del bene Perché ci sono Delle organizzazioni Che sono là Per fare del bene Beh in teoria Tipo a Roma Ci sta La FAO Quelli che danno il cibo A quelli là Che non ce la fanno più Il World Food Program IFAD Banca Mondiale Francesco pensava Che questi Fossero quelli buoni Poi ci sta dentro Gente Di vari colori Della pelle Si vestono con le tuniche Saranno fratelli Dei loro fratelli poveri Ma poi Quando ci andate a lavorare Alzate il tappeto Un attimo Ma c'era una puzza Peggio che stava al Ministero della Difesa Cioè I meccanismi I porcilismi Di come si lavora Nelle grandi organizzazioni O aziende È lo stesso Che ci stanno Quelli della Thailandia O quelli di Napoli Non fa tantissima differenza E questo Francesco Quindi Vedendo che nemmeno andando Nelle organizzazioni Che dovrebbero fare del bene C'erano degli spazi Puliti Onesti Per creare veramente Delle cose utili Ha deciso di cambiare strada Non facendo un salto completo Ma Mettendo Un piede In un'altra scarpa Aspettando che l'acqua Si intiepidisse Nell'altro piede E quando si è trovato A suo agio Che si poteva sopravvivere Da questo lato Li ha messi tutti e due di là Questo signore Che 17 18 anni fa Aveva 47 anni Aveva una compagna E due figli Sono io Non si chiamava Francesco Si chiamava Gigi Semmai Ma era l'unico modo Per farvelo digerire Senza apparire Così che mi volevo mettere Sul piedistallo da solo Ma questa è la mia storia Perché Ho iniziato a lavorare Il mio primo lavoro Per il nostro simpaticissimo Carissimo A seconda dei punti di vista Silvio Lui Nel primo lavoro che ho fatto Era nei sotterranei di Milano 2 Palazzo dei Cigni Dove io facevo dei promo Che dicevano I promo sono i trailer Per i programmi tv Stasera alle 20 e 30 Premiatissima Con Johnny Dorelli Questo è stato il mio primo lavoro Di promuovere tutti i programmi Delle re di Mediaset Andandoli prima a vedere Scendendo in studio Facendogli dire a quello Quella cosa A quello a quell'altro Trovando le musiche Trovando il copywriter Che mettesse i testi giusti Facendo il montaggio Di tutta questa roba Vedendo di Rocky Che non l'avevi ancora visto Dall'inizio alla fine Scegliendo 3-4 scene E dicendogli Stasera alle 20 e 30 Rocky A quel tempo Per me Silvio Era il massimo Ora Non tirare conclusioni Io avevo 24 anni E lavorare nei sotterranei Di una tv Che per la prima volta Tentava di battere La Rai Era molto Robin Hood In quel senso Perché era proprio Un alternativo Non faceva Ancora tutte quelle bellissime feste Dove non mi ha mai invitato Non era entrato in campo Nel fare altre cose Che io manco mi potevo mai immaginare Che lui facesse Con delle squadre Non so Ti favano Ah Era nazionale Ecco quando E quindi Lui mi ha invitato anche A cena a casa sua A mangiare Perché lui Effettivamente A quel tempo Quando stava nel suo seggiolino preciso Era un bel imprenditore Cioè chiamava Quelli che facevano i promo Dice Vieni a cena Perché voglio sapere Che cazzo state facendo E come lo fate Quindi io lo vedevo Proprio come un dio Avendo 24 anni Ora diciamo Non lo vedo più tanto così Ho cambiato un po' Il mio parere Ma anche lui è cambiato molto Soprattutto i capelli Non li riconosco più Come quelli di una volta Fatto sta che Ho provato lì Da lì sono andato Alla concorrenza Che è la Rai E poi dalla Rai Sono andato Alle agenzie di pubblicità J. Walter Thompson McEnerickson Ditemi voi i nomi Perché non me li voglio più ricordare Quei giorni così tristi Tanti mal di pancia Young e Rubicam Come cavolo Si chiamavano quegli altri Ancora E dovunque andassi Era sempre Un bagno di sangue Quella era Finita Con Una grossa agenzia di comunicazione Che Dalla mattina Alla sera Mi ha portato via Dalla mia agenzia di comunicazione Tutto lo staff Cioè prima mi ha riempito Per mesi di lavoro Così tanto lavoro Che io non potevo più Accettare il lavoro Da altri clienti Me coglione E poi quando Lavoravo solo per lei Mi doveva Un bel po' Di fatture Perché tanto Me ne aveva pagate tante Quindi Io non insistevo Questo porta soldi Porta soldi Per due mesi non mi sta pagando Per tre mesi non mi sta pagando Alla fine del terzo mese Mi sveglio E nell'ufficio Non c'è più nessuno Ha assunto tutti I miei collaboratori E li ha portati In un'altra parte Beh i collaboratori Ricci avevi Robin Quando sono giovani I soldi Annebbiano proprio la vista E quindi Ci sono rimasto Forse più male Per le persone Che sono andate via Che non Per la situazione generale Ma insomma Gira e rigira Io mi sono trovato Sempre in situazioni Dove Che vuoi dire Che vuoi fare O cambi direzione O non hai scampo E per questo Ho messo un piedino In un'altra scarpa E ho deciso Di provare A fare qualcosa Di diverso Ma non con l'intenzione Di fare un business Perché essendo 2001 2002 Ma io non c'avevo Nessuna velleità Di andare su internet A guadagnare dei soldi O di inventarmi Dei prodotti O un e-commerce Ho detto semplicemente Internet mi dà La possibilità Di condividere Delle cose Che a me appassionano Che sono Comunicazione E strumenti Per comunicare Che aiutano le persone Da quelli che si usano Per fare le presentazioni Ai convegni E ho cominciato A scrivere A condividere Queste cose Non chiedendo niente In cambio E da lì è successa Una cosa magica Perché io Lo facevo Per il piacere Di farlo Di scrivere E di condividere Fatto sta Che gli abbonati Sono aumentati Vorticosamente Diciamo E Quando ho cominciato A trasferire Questi contenuti Della newsletter Sul mio sito Qualcuno è venuto E mi ha detto Robby ma Perché non ci metti La pubblicità Perché sei scemo Cioè a me mi dici Di mettere la pubblicità Ma a me quelli della pubblicità Cioè mi hanno appena Portato via tutto Perché dovrei Continuare a aiutare Questo sistema di cose Uè no Guarda C'è un nuovo servizio Di Google Che è appena nato In America Si chiama AdSense Praticamente tu metti Un pezzo di codice Nel tuo sito E poi automaticamente Appaiono delle pubblicità In sintonia Con i contenuti Che tu stai scrivendo Se parli Degli internazionali Di tennis Appaiono automaticamente Le pubblicità Sulle racchette Sul biglietto Per gli internazionali Ho detto No è interessante Ma le pubblicità Sono sempre pubblicità E no Guarda Robby In questo è diversa Perché Appare solo il testo Non lampeggia Non c'è scritto dentro Se è il 99.995 Dai hai vinto Sono pubblicità serie Tipo Internazionali tennis Biglietto 14.99 Ticket line Ma ha detto Ma cazzo Figata questa E ho messo Queste pubblicità Poco intrusive Poco lampeggianti Per niente lampeggianti Sul sito E nel giro Di un anno Quando stavo ancora Con un piede di qua E uno di là Questo Scrivere gratuitamente E farci apparire Accanto delle pubblicità A tema Ma ha fatto sì Che cominciarono Cominciarono A arrivare Dei soldi 500 dollari al mese 600 1000 2000 3000 3000 Quando è arrivato A 3000 Ho detto Andiamo di là Ho spostato La scarpa Di qua E da lì Non mi sono più tolto Sto ancora Lì dentro Ma non guadagno più Di quei soldi Che mi manda Google Dice Come mai Adesso che ce l'hai detto Noi andavamo a casa Qua subito Perché dice Purtroppo questa cosa L'hanno tolta Come l'hanno tolta No Non è che l'hanno proprio tolta Diciamo che non si può più fare Perché sai Internet So Un anno normale 7 di internet Quindi dal 2001 Adesso 17 anni Per 7 Quanto fa Cioè tipo 100 anni Sono passati Da quando ho fatto queste cose In termini di internet Sono passati 100 anni Cioè Quella roba lì Non la puoi fare più A meno che tu non abbia Decine Centinaia Milioni di visitatori Che vengono sul tuo sito E che Becerate mai Ci dovrai mettere Per avere tutti quei visitatori Non so neanche immaginarmele Dovrei andare a consultarmi Col TG4 E Una volta che tu hai Queste grandi Massi visitatori Puoi ancora usare quel sistema Quindi per noi Piccolini Indipendenti Imprenditori Pensare di fare i soldi Come ha fatto Robinhood All'inizio Non è più Una realtà Possibile A me Sono passati Un po' di anni Perché questo Diventasse un problema Perché Google A un certo punto Ha detto Ah tu sei cattivo Hai fatto delle cose Fuori regola E quindi Ti seguiamo Non appare Se uno cerca Il tuo nome O cerca il tuo sito Non lo facciamo più apparire E quindi Da un secondo all'altro Neanche dalla mattina alla sera Proprio Tata Non viene più nessuno Sul tuo sito Nessuno clicca O vede più le pubblicità E tu non guadagni più niente Se poi da un giorno all'altro Track questi 18.000 Vanno via Tu che cosa gli dici A queste persone Che lavorano con te È un bel coso Per il chicco No? Giusto? Quindi ho detto Questa strada Non è percorribile Devo trovare Un'alternativa Per cui Non mi possa mai più Succedere questa cosa Non punto più Tutte le mie fisce Su un solo cavallo E cerco di trovare Un modo Per cui Ho un business Che non si possa Spegnere mai Da un giorno all'altro E quindi Piano piano Mi sono creato Una piccola scuola online Che si chiama Pop Campus Dove Ho iniziato a offrire A quelli che erano interessati Perché al tempo Avevano visto Questo milione di dollari Che avevo Fatturato a Google Loro l'avevano visto E quindi c'erano tanti lì Con la bava alla bocca Come hai fatto Come hai fatto Come hai fatto E poi ho detto Facciamo una scuola Anche se a me Google mi ha segato Se loro vogliono sapere Come ho fatto Glielo posso dire E gli posso dire anche Magari Come evitare Che li seguino pure a loro E sono arrivato qua Sono arrivato qua Perché io ancora Quello che faccio adesso È questo Robin Good Ex Gigi Canali È Un imprenditore indipendente Senza velleità Di diventare milionario Che aiuta chi? Piccole aziende Commercianti Attività Che possono anche essere Farmacia Possono anche essere Gelaterie Ma sono soprattutto Consulenti Esperti Formatori E piccole aziende Nei settori più diversi A diventare Quello che io chiamo L'avrete letto 200 mila miliardi di volte Punti di riferimento Nel loro settore Che vuol dire? Gente di cui ti puoi fidare Che fa bene Quello che fa Che è credibile Che fa cose Che non sono quelle Che fanno tutti gli altri Che va oltre E come lo faccio Questo mestiere? Lo faccio Basandomi su due elementi Chiave Uno è quello di Condividere valore Perché quello che ha portato Fuori Enrico Grazie ancora È Quest'idea proprio Che noi Facciamo un sacco di fuffa Un po' per imitazione Un po' per ignoranza Un po' per Trascuratezza Nel voler Approfondire Cosa sia meglio fare E l'altro Investendo molto In quello che mi hai visto Fare oggi L'80% Di chi è seduto qui Dal momento che sei entrata E cioè Di prestare attenzione A te Di incontrarti Di conoscerti Di cercare Di capirti Lo so Con Elena Ci ho speso poco tempo Con Alexandra pure Con Matteo per niente Ma con Andrea Alessandra Gli ho dato giù Tant'è Che loro Sono rimasti così affezionati Che mi hanno visto Quanti anni fa? Cinque Cinque E sono tornati Solo per il piacere Di rivedermi Io sono felice Perché Adesso lo so Mi prenderete per un Per proprio uno fuori Di testa Ma La mia soddisfazione Il mio piacere Quello che guida Tutto quello che faccio È il piacere Di condividere con gli altri Anche perché Io non ce le ho più 19 22 33 44 Quindi Ci arriva a un punto Perché quando stavo Magari all'età tua Ma anch'io volevo scalare L'Himalaya In tutti i sensi Però poi dopo Se sti Malaya Non ci arrivi mai in cima Cominci a guardare Agli altri posti interessanti Che ci sono Nella vita Di come vivi Di gente Che ti continua a pressare Di ambulanze Che ti vanno davanti e indietro Tutto il giorno Di rumori Di casino E quindi ho deciso Di mandare Tutti quanti Santamente A quel paese E ho scelto Di andare Di mettere 3000 km Di acqua Di qua 3000 km Di acqua Del là Del là Del là E del là Sto su un'isola In mezzo all'oceano atlantico Che sono quelli che si perdono Con le barche a vela Ci sbattono dentro Perché non sta neanche Nelle rotte dei turisti Ma dove sei andato a vivere Sono andato a vivere In un'isola Che si chiama Terseira Che fa parte Di quelle là Del colonnello Bernacca Dove c'è l'anticiclone Delle Azzorre Le isole azzorre Ah figo Robin Tutto tropicale Stai sempre spiattando Col cavolo Non è tropicale Per niente È tipo Un'Irlanda Una Svizzera Sul mare Addirittura Quest'isola Non ci stanno I pescatori Ci stanno I contadini Con le mucche E quelli che mi scassano Di più le palle A me in quest'isola Sono i galli Perché È un'isola Così pacifica Così bella Che io Intorno alla mia casettina C'ho una tribù Di galli Liberi Cioè non so Non c'hanno il padrone Non c'è un pollaio Loro sono lì Nella natura E che fa Uno quando è libero Nella natura È piena di belle ragazze Intorno Gli è da giù De brutto E loro Gli danno giù Un sacco E io non c'ho Modo per fermarli Cioè se voi Non lo dite Adesso in giro Io all'inizio Ho comprato una fionda Però Non si beccava niente Perché questi So sveglissimi Cioè Fai conto che lui Il gallo sta là No la mattina Che tu stai a dormire A letto So le sei Quelli cominciano No E tu dici Ma mi fa un altro Sonnellino Un altro pochino Dici Ma il prossimo Che fai Vengo Allora Quando arriva il prossimo Io mi alzo C'ho una porta finestra Che sono già fuori Ma appena sono qua fuori Lui da laggiù Mi vede E subito si nasconde Si mette da un lato Quindi con la fionda Era impossibilissimo Ho preso dei cappellini Un po' di tutte mimetiche Per uscire in modo che non mi vedessero E ho Aspetta a giudicarmi Ho comprato Una carabina aria compressa Che c'ha dei ricosini Che cazzo Se io ti sparo da qua Allà Se rompe qua Non gli fa niente Oh ma chi è stato Basta Però ho capito Io ho questa soddisfazione bellissima Di vedere i galli volare Perché quando Io gli sparo solo nel sedere Prima di tutto Non è che appunto A fargli del male Però Cioè Voi vi sfogate E datemi uno spazio anche a me Quindi Quello che capita La mattina Chi è Non lo so C'è uno che si chiama Ettore Pericle Achille C'hanno tutti un nome Come lo vedo Io mi metto lì E Ping E loro Cucca Cucca Che io vorrei condividere con te E che penso Possano essere utili A parte le mie storie personali In qualsiasi cosa tu faccia Se hai già successo Se già vanno bene le cose Probabilmente già li adotti Altrimenti potrebbe essere qualcosa di interessante Ascoltarla Allora Il primo elemento Sul quale si basa un po' Il mio modo di fare comunicazione E business È Il posizionamento Cioè Il rendersi conto Che su internet Siamo come su una grande libreria Dove Se tutti i libri Ci hanno lo stesso titolo Fai conto Ci fossero mille libri Che si chiamano farmacia Come faccio A trovare il tuo È un po' un problema Su internet Noi Quando siamo un'azienda O Un'attività Pensiamo Che facendoci un sito Una pagina web O un gruppo Quello che sia Le persone ci riconoscono immediatamente Ci possono trovare Eccetera Ma in realtà Non è proprio così Dobbiamo strillare parecchio Infatti vi vedo quanto strillate Quante concine col muscolo ci mettete Però Non basta Ciò che serve veramente È di distinguersi In maniera netta dagli altri Ti facciamo degli esempi concreti Robine Anche se non c'hai wifi Io posso vendere i pneumatici E dire quindi Che mi occupo di pneumatici in generale Vendiamo pneumatici Pneumatici per le auto Ecco Questo È ciò che su internet non funziona Perché su internet Devo essere In una cosiddetta nicchia Devo mettere una testa di ponte Una punta di diamante Che mi distingue da tutti gli altri Già le sento le voci Nei vostre teste A Robin Ma se io faccio così Poi dopo gli altri clienti Facciamo un esempio Pneumatici Per chi Nel Veneto Fa Cross country Adesso dico delle cose Di cui non sono competente Quindi perdonati i termini Ci capiamo Quindi pneumatici Per fare un certo tipo di cosa E tra l'altro Io li vendo A quelli che stanno nel Veneto A me di quelli che stanno in Calabria Non mi interessa nulla Questo è Trovare una testa di ponte Una punta di diamante Una nicchia Un settore specifico Dove mi posso Distinguere E differenziarmi dagli altri Come io dico questa cosa Nella testa di tutti quanti viene Oh ma tu sei proprio Toccato in testa Perché se io faccio così Quelli della Calabria Non vengono più per niente Se già venivano poco E tutti quelli che non c'hanno il crossover Quelli che vengono per la 500 Eccetera Non mi si filano più per niente Quindi che bella idea Mi stai a presentare Robin A me di avere 100.000 persone Che vengono sul sito 10.000 clienti Che guardano la pagina Facebook Non me ne frega niente Perché che ci faccio Mi costano Mi costano tempo Mi costano lavoro Mi costano budget Di promozione Mi costano hosting Registrazione Quindi Usciamo un po' Da questa mentalità Che abbiamo solo ereditato A forza di guardare Il nostro amico Silvio E le sue reti Quelle della Rai I giornali E il loro modo di fare Perché pure sulla Repubblica Non è che è meglio Del TG4 Chiedo scusa A chi è appassionato Del TG4 Di informazione Di notizie Per poi dopo Spremermi in maniera diretta Perché il centro media L'agenzia Gli da Mi da I soldi Giusto? È così? Corrisponde? Quindi dove eravamo arrivati Matteo? Sul posizionamento Posizionamento Vedo che sei attentissimo Questo posizionamento Quindi è Per quanto possa sembrarti Anticontrointuitivo Di scegliere Una specializzazione Precisa nel tuo settore E non Quello che dicono tutti gli altri Se sono farmacia Sono uguale a tutte le altre farmacie Quindi Oggi le farmacie Sono diventati dei posti Dove ci sono tante situazioni Di salute diverse Posso fare dermocosmesi Posso fare in certe farmacie Addirittura la spa Giacuzzi Cura dei capelli Trattamenti estetici Giusto? Quindi La farmacia Per prendere un esempio Di uno che ha veramente Una situazione difficile Nel retro bottega Perché sta arrivando Amazon E fra un po' Voglio dire Se mi serve la spirina Non è che devo scendere da casa Ma arriva sulla porta Quella roba lì Il farmacista che farà? Quindi Pensa ecco Una situazione come questa Perché sono tanti i settori Che poi si trovano In questa situazione Deve per forza differenziarsi Quindi Farmacia Specializzata in dermocosmesi A Piacenza Ma voglio vedere Quando tu vai a cercare Su Google Su Facebook Dermocosmesi A Piacenza Farmacia Non ne vengono più 100 Non ne vengono più 24 Se ne vengono due Sono tante Ti corrisponde? Ok Ma io lo so Ti sento Che tu nella testa Ancora stai dicendo Ok Robin Dermocosmesi Chiara la logica Però tutti quegli altri Che la dermocosmesi Non ne frega niente Io che Non li posso perdere Sti clienti Ma non li devi Perdere questi clienti Io sto solo dicendo Quando vai là Metti una giacca Che c'è scritto Che termocosmesi No? Dermocosmesi Poi dopo Se uno viene da te Dice Ma tu li gratti i sederi? Certo Io non li gratto Li gratto volentieri Quanto li fai? 5 a grattatina Benissimo E ce l'hai la roba per diabete? Ma che scherzi So pieno della roba per diabete E gliela dai Però Tu per distinguerti Per farti trovare Trovare Cento qualcosa o diritto Che vogliono te E proprio te Ti devi dare qualcosa di speciale Perché se sei farmacia Non viene nessuno da te Qualcosa o diritto Giusto? Perché la farmacia È farmacia Vale una Vale l'altra Corrisponde? E allora Mi fai Robin Degli esempi Di chi ecco tu Hai conosciuto Gli hai dato una mano E fa una cosa così Come la dici tu Di nicchia Fammi degli esempi concreti Non teoria Allora io sarò presuntuoso No Veramente non sono presuntuoso Ma devo far finta Di essere presuntuoso Così capisci che non sono presuntuoso Sarò presuntuoso Nel dirti che Io penso di stare Un pochettino più avanti Agli altri Ma Non è che So figo Non mi voglio sfoggiare Questa cosa Mi rendo conto Nel aver fatto Quello che ho fatto Che delle cose Che io noto E che metto in pratica Poi succedono Dopo diversi anni Tant'è che all'inizio Mi prendono tutti in giro Ma tu che stai a fare Sta cosa Ma sei proprio Deficiente Ma perché non fai Come tutti gli altri Poi passa uno Due tre Quattro anni E poi pure Montemagno Lo fa Oh Non vedi Montemagno Che sta a fare Sì ma guarda Robin Hood Quanti anni prima Ha fatto Non dico la stessa cosa Perché Montemagno È bravissimo Non c'è niente da dirgli Quella cosa simile Adesso Non volevo tirare in ballo lui Ma per dire E quello che ho notato È che Sono i piccolini Come nel mondo dell'arte Dicevo oggi a Davide Ma Bansky Non è che è andato All'Accademia delle Belle Arti Bansky Quello che fa i graffiti Rivoluzionari Dal muro Di Ramallah New York Quanti non lo conoscono Tutti Tutti lo conoscono Bravi Dico Bansky Che ha Secondo me Portato una svolta Nell'ultimo decennio All'arte moderna Chiamiamola Non so come la vuoi classificare Street art Giusto? Non viene da Il mondo delle gallerie d'arte Dei grandi critiche Viene dal basso Ma manco sappiamo com'è Com'è la faccia Non si è mai visto E nello stesso modo Che pensate Che nel marketing Nel mondo del business Le grandi idee Verranno da Ogilvy O da IBM O da FCA No signori Secondo me No Mi potrei sbagliare Ma io ho la sensazione Che le idee Le cose cazzute Difficili da fare Sono i piccoli Che le fanno per prime Perché? Perché è facile Per un piccolo Rivoluzionare Cambiare Non c'ha niente da perdere Non c'ha grandi aziende Non c'ha 2000 dipendenti Non c'ha CDA Da convincere Non c'ha Grosse somme Che andranno perse Se si sbaglia E quindi sono i piccoli Che aprono nuovi terreni Nuove direzioni Nuove possibilità E dai piccoli E dai piccoli Quindi Te lo sto dicendo Per evitare Che tu mi dica Ma tu ci stai facendo vedere Gli esempi dei piccoli Ma io che ce li posso fare Se i grandi dormono Non è colpa mia E per questo ho detto Guarda io sto un po' avanti E quindi Queste cose che ti riporto Vengono da situazioni Che sono ancora piccole Tu ti consideri un piccolo O un grande? Piccolo Piccolo Proprio piccoli Facciamo degli esempi concreti Partiamo da Fabrizio Pucci Terni Età 35-40 anni Robin Io sono appassionato di musica Di jazz Mi piace molto Tantissimo Oh ti seguo da tanto tempo Vorrei fare qualcosa su internet Ma a casa non riesco Sta nicchia Come faccio a implementarla A me piace Jazz Ma jazz Dico oh jazz È proprio una parola Grandissima Tante cose Eh sì Ma tu dici di andare preciso Io dove vado preciso Gli ho detto Ma tu chi vorresti aiutare Perché qua Non devi partire Da che cosa gli venderò Ma da chi vuoi aiutare Cioè Con che persone Ti trovi bene a lavorare Per cui se gli fai Quello che gli vuoi fare Sei contento Ah beh I musicisti giovani Le band Gli indipendenti I musicisti emergenti Perché Vedi questi Mi fa lui a me E questi Sono bravi Si allenano Suonano 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 Poi dopo dicono Ma mo Do sonamo Che do lo famo Un concerto Ma chi ci invita Abbiamo stampato Sti 2000 cd A chi li damo Questa è la situazione Del 90% Dei musicisti Indipendenti Emergenti Che ci sono Sono bravissimi A andare insieme A provare Ma poi non hanno proprio La più palida idea Anzi sono i più Imbranati di tutti Ne riuscire A farsi conoscere A apprezzare Perché pure loro Stanno lì Oh Senti Che è l'ultimo pezzo Che figata Allora io gli ho detto A Fabrizio Senti ma Perché non fai Proprio questa cosa Qui che hai appena detto Aiutare I musicisti Emergenti A promuoversi Sui A farsi conoscere Apprezzare Usando internet Lui mi fa Madonna Robby Ma chi sei Ma ti ho detto niente E lui direi Ma mi fai tutti questi complimenti No ma dice proprio È precisa È una nicchia Cioè Sembra una stronzata Amo che me l'hai detta Però io savo un anno A pensarci Non mi è mai venuto in mente Allora io ho detto E allora proviamo Quindi è nato un sito Che sta lì Lui è cintura gialla Per adesso Che vuol dire cintura gialla Cintura gialla Vuol dire sta agli inizi Non è uno come Superpower post Che già Eh Sta agli inizi E ha fatto un servizio Un sito Che si chiama Musicpromoter Punto IT Che cosa fa? C'è scritto Aiuto i musicisti emergenti A farsi conoscere Attraverso internet Quindi che cosa trovo Su quel sito? Trovo un catalogo Ad esempio Di tutti i servizi Che ci sono internazionali Da tutte le parti del mondo Scritti in italiani Ognuno con una scheda Dove posso andare E inserire i dati Della mia band Per farmi conoscere Alcuni di questi servizi Sono gratis Altri a pagamento Oppure C'è un catalogo Che fa vedere Quali sono le pagine facebook Dei musicisti O delle band Che meglio usano facebook Così posso vedere Degli esempi E ispirarmi Oppure musicista Vuol far sapere Che è uscito Il suo ultimo album Come fa a scrivere A tutti quanti i giornalisti E dove li vado a trovare Sull'elenco non ci stanno Ha fatto un elenco Di 70 80 90 112 Tutte le riviste E i giornali italiani Che parlano di musica Il loro indirizzo E contatto Cosicché Se tu ti vuoi far conoscere Vai lì e glieli dai Mazza figo Quanto fa pagare? È gratis Perché è gratis? Perché è centura gialla Beh che c'entra Sai io la vedo così Non è che tu puoi andare su internet Con tutte queste cose Che ti dicono I vari esperti Guru eccetera E subito andare lì A pensare Come puoi piazzare Le tue cose E vendere a qualcuno E che prezzi farli Non funziona così Funziona proprio al contrario Cioè Prima Vai su internet E ti fai apprezzare Vieni alla scuola di ballo Che noi facciamo l'hip hop Prima balli un po' con noi E ci fai vedere Che non sei una pippa Se non sei una pippa Noi ti prendiamo A danzare con noi Perché Siamo tutti più contenti Il nostro gruppo La nostra crew È più ampia Quindi la prima cosa Non è di cercare Di piazzare il proprio business Ma di farsi apprezzare Di farsi conoscere E di diventare credibili Perché su internet Ognuno Chiunque Il primo stronzo Che passa qua fuori Che a gratta e vinci Ha vinto 5.000 euro Va Dall'agenzia X E si può fare un sito Tanto figo Come quello di un'azienda Che magari Ne ha spesi pure di meno È vero o no? E questa è quella facciata Di cui parla lui Quel sito lì È una facciata Perché lui È un È una persona Che non ha idea Di quello che c'è da fare Ma ha capito Che se metti i soldi Mi posso fare Il vestito più figo del mondo È apparire Come tutti gli altri Allora Siccome noi non siamo Tutti i coglioni E qualcuno di noi Si è svegliato Ha detto Cazzo ma su internet Qua c'è sta un sacco di gente Che ti frega Che sembra chissà cosa Che ti dicono Qua 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 Poi vai a comprare l'ebook Sono 35 pagine C'è scritta sempre la stessa cosa Ma come mai? Perché tu ti fai prendere Da questa facciata E la gente Quindi nel prossimo futuro Se già non sta succedendo Quando usi il computer Tu Va a cercare di capire Cosa c'è oltre la facciata Sono veramente credibile o no? E quindi Se c'è uno come Fabrizio Pucci Di Music Promoter Che mi dà il catalogo La lista di tutte Le riviste I giornali Dove posso far conoscere la mia cosa Mi dà tutti i servizi Che ci sono là Senza chiedermi niente Tu cosa pensi? Ah che fio di una mignotta Questo mi può fregare? No La prima cosa che pensi O è matto O è un genio questo Me lo devo segnare Lo devo dire a tutti i miei amici Ti corrisponde Mattè? E quindi io quello che consiglio A chi si avventura Là fuori È prima di tutto Di costruirsi una credibilità Non di preoccuparsi subito Di spremere Eh ma io devo sopravvivere Devo mangiare Eh ti ci vuole tempo Se vuoi andare di corsa Devi andare da qualcun altro Frank li aiuta Quelli che fanno di corsa? Eh? Quindi Il posizionamento Che ci ritorniamo subito Fra un attimo È tanto importante Quanto questo secondo elemento Reputazione Credibilità Online Perché mettere fuori una facciata A parire fichi È abbastanza facile E basta avere un po' di soldi Ma dimostrare Che si è credibile Che ci interessa veramente La salute E gli interessi Dei nostri clienti Non è che puoi farlo Dicendo sono bravo Sono forte Compra da me C'è l'offerta oggi Siamo i migliori Consegniamo oggi Ritira domani Ci stanno duemila altri Che strenano le stesse cose Quindi Dimostrare prima Dando Delle cose utili E di valore Può fare tanta differenza Ci torno dopo Magari con qualche esempio concreto Ritorno al posizionamento Ho fatto l'esempio Di music promoter Fammi un altro esempio Prendiamo Ora uno che stava già In una nicchia precisa Molto umile Scendo giù Ma sono sicuro Che può essere utile A qualcuno Quest'aneddoto Marco Leo Vive a Viterbo E fa Ripetizioni Di matematica Così in basso Sono sceso E Marco Leo Mi fa Senti ma io Queste ripetizioni Di matematica Praticamente Non riesco Più a fare niente Io dai Che vado Fuori nelle strade A infilare roba Sui tergicristalli Ma qua ogni anno Vengono sempre di meno Come posso fare Per sfruttare Sto internet Che vedo Tu ne sai un po' Per riuscire A riprendere Il mio business Sono andato in giro Online Su internet Ho scoperto Un po' di persone Ho visto Giulio Gaudiano Poi ho scoperto Montemagno Poi ho scoperto Te Poi sono stato lì Sei mesi A valutarvi A mettermi uno Contro l'altro A vedere Ma quale che me sta a fregare Alla fine Ho detto Ma forse tu mi sembravi Più affidabile Non so se è ancora Rimasto convinto La stessa cosa Però mi paga ancora Quindi evidentemente Qualcosa di buono Ho trovato Io gli ho detto Senti tu Ma tu sei in una nicchia perfetta Cioè Fai ripetizioni De matematica A Viterbo Più nicchia di così Cioè se uno va su Google O su Facebook E ci scrive Ripetizioni matematiche A Viterbo Ma quanti ne verranno fuori Siamo andati a verificare E c'erano Un po' di gente Varia Ma nessuno Che aveva un sito O una pagina Erano tutti quelli Che si erano messi Su Kigi Kiwi In questi siti Dove ti puoi annunciare Quello che fai Ma poi loro Non avevano niente di più Da dare Allora gli ho detto Senti noi facciamo Senza che spendimo Tutti questi soldi Perché io poi sono Della politica Meno ne spendi In queste stronzate A rischio E più ci mettiamo Del valore Meglio è Quindi non è che Dobbiamo fare dei siti Da 5.000 Facciamo un sito Da 15 dollari E che si può fare Sì si può fare Se sta lì C'è Come c'è Cioè se tu vai E scrivi Se ci fosse il wifi Scrivessi Il profdimate.it Ci sta un sito Di una pagina Soltanto Dove io gli ho detto Senti mettiamo Prima la lavagna Ci scriviamo Il profdimate O ripetizioni Di matematica Poi ci mettiamo Chi sei Che servizi offri Che hanno detto Gli studenti Che sono già venuti Da te Dove posso trovare Come ti faccio A contattare Basta È così semplice È così semplice E poi È poi Apriamo una pagina Facebook Ah figo La pagina Facebook Tutti si eccitano Ah bello E che faccio lì poi Beh tu Chi so i tuoi clienti Lui fa Sono gli studenti Che vengono a fare ripetizioni Non hai capito niente Non sono gli studenti Che vengono a fare ripetizioni I tuoi clienti Come no Robin Chi sarebbero Sono i genitori Che sono incazzati neri Perché il figlio Continua a prendere 4 A scuola E dai 4 E dai un altro 4 Ma siamo a maggio Qualcosa devo fa E che fa il genitore Cioè Queste 3 parole Sa scrive Ripetizione Matematica Viterbo Non è che deve essere Un genio No Allora io ho detto Vai sta cazzo di nicchia Scrivi queste 3 cose qua E potrai Vedrai che vengono La settimana scorsa Il professor Marco Leo Il prof di mate Mi telefona Sai ho fatto Dei conticini E ho visto Che in questo ultimo anno Tutti gli studenti Che vengono qua Sono venuti Perché mi hanno trovato Su internet Non ci stanno più Quelli di Tergicristallo Ma ho detto Oh soddisfazione Ma quanto stai a spendere Su Facebook Ah no Quelli del caffè E delle sigarette Ma li metto su Facebook E basta Non devo spendere nient'altro Mi hai detto che io Se posto su Facebook Ci devo mettere dei soldi Se no È inutile che posto su Facebook Bravo Gli ho detto Quindi ci metti Quei 3, 4, 5 Sì ci metto quelli lì E questi vengono Che cosa gli posti Che ti ha detto Robin Di postarci Ma siccome so i genitori Adesso lui fa il saputo So i genitori Io che gli faccio vedere Gli faccio vedere Per esempio Emanuele Che è venuto oggi Che aveva preso 3 E lo metto lì Gli rivelo la soluzione Il trucchetto Per farlo Lui gli dà Gli dà Gli dà Finché a un certo punto Sorride E metto lì con lui Faccio foto E poi scrivo il racconto Emanuele oggi Ha preso 3 A liceo Ferraris È venuto qui da me Ci siamo seduti un po' Guarda che faccia Che c'ha adesso E insomma I papà e le mamme Dagli una volta Dagli un'altra Hanno cominciato a chiamare Oppure gli faccio dei contest Gli metto 3 fratto 2 Più 4 fratto 3 Uguale punto interrogativo Allora i genitori Quelli che erano bravi in matematica Vengono fai figli con i figli E vengono E mi mettono tutte le soluzioni E quindi io li tengo un po' Agganciati Tra far vedere figli Che migliorano Fra che ti faccio giocare Un po' con le mie cose Insomma Questo signore Parliamo di business Grande così Però Ha risolto la sua situazione Semplicemente Rendendosi conto Che lui sta Nella situazione ideale Su internet Perché è specializzato Su qualcosa E sta in un posto specifico Quindi Teriamo un attimo Un filo Che chiude questa cosa Ti do Una formula Una formuletta Chiamala come vuoi Non è un segreto Non è un trucco È un metodo Per aiutarti A poter anche tu Verificare Se stai Posizionata Per un settore specifico Per un gruppo Di persone specifico E se gli dai qualcosa Che si differenzia Dagli altri Certo È un peccato Non avere un posto Dove scrivertela Però proviamoci uguale Allora Prima cosa Di questa formula Se puoi prendere nota È Il tuo nome O il nome della tua azienda O della tua startup Dell'organizzazione Che c'hai Quindi prendiamo ESC Che è la nostra agenzia Che ci ospita Qua Davide Fornasiero Alberto Franchini And Company ESC Quindi prima cosa Metti il nome Seconda cosa Aiuta Metti questo verbo Che ti mette Nel binario giusto Perché non dobbiamo Non stiamo andando là A spremerli Stiamo cercando di capire Per fare il business Del futuro Il business Che ci differenzia Dagli altri Come aiutare Un gruppo specifico Di persone A risolvere Un qualche cavolo Di problema Quindi ESC Aiuta Chi Chi aiuta ESC O adesso piloto un po' io Giochiamo Perché ESC Ci avrà le sue idee Ma io devo fare Questa dimostrazione Poi ci mettiamo dentro Qualcos'altro ESC Aiuta Le medie aziende Del modenese A fare che E qua ci devo riempire A comunicare in maniera Più efficace Il suo internet A fare Lead generation A conquistare Nuovi clienti Lo vedi che qua Non è che puoi scrivere 200 miliardi di cose Gli devi dire una cosa Che è quella testa Di ponte di prima Quella punta di diamante E lì ESC Dice Robin Però Noi facciamo tante cose Proprio una sola Gli dico Magari Specializzati Sulla Consulenza strategica Sull'aumento Del fatturato Non sono cose Così astronomiche Difficili Le persone Le capiscono Le fai a Modena Ti occupi di questo Tutti gli altri Fanno tutto E di più Già ti differenzi Formuletta non è ancora finita Abbiamo detto Nome dell'azienda Aiuta Chi Le medie aziende Modenese A fare che cosa Attraverso Ultima parte Della formula Cioè Come fai A fargli aumentare Il fatturato Attraverso La formazione De 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 Nel Diventare Padrona Della Comunicazione Senza Doversi Andare a rivolgere A qualcun altro Che se lo fa Perché la maggior parte Le aziende Quando vuole comunicare Dice Ma questa non è roba mia Diamola all'agenzia Allora Esche per differenziarsi Che fa Non glieli fa a lui Perché voglio dire Se tu fai i tubi Io so Esche Cioè Avrò gente Che mi scrive qua dentro Ma non è che possono Sapere tutto dei tubi Quindi Si può fare un giorno Si può fare un anno Ma prima o poi Quando viene uno esperto Che dentro casa C'ha gente Che vuole scrivere Sa di tubi Quello Mi sbatte fuori a me Allora Esche Dice Esche Aiuta Le medie aziende Modenese A aumentare Il loro fatturato Attraverso La formazione Sulla comunicazione Strategica Cioè Ti dico Cos'è che ti do Come te lo do Cos'è La cosa che mi differenzia Che io Non sono qui L'agenzia Dove vieni E fai tutto Mentre Esche Lo fa Non mi infra Intendete Esche Se gli chiedete Altre cose Le fa tutte Io sto solo Facendo un esempio Ipotetico Non è un riflesso Della loro situazione Attraverso Il tuo metodo La tua soluzione Ora C'è una variabile In più Che ti puoi segnare Che è il Dove Perché se tu stai a Modena E ti interessa servire O aiutare solo quelli di Modena Ti conviene Dirmelo dove stai Perché quello ti differenzia Non sono posta veloce In tutta Italia Sono Post power A Modena Quindi se mi voglio promuovere Diciamo indipendentemente Dal mio network Quell'elemento del dove Mi aiuta E tu c'hai anche un attraverso Perché Fammelo chiedere questo Perché sono curioso Perché Enrico qui Ha una ditta Direte ma perché Te sei fissato con Enrico Ma perché Stai simpatico Voi Voi consegnate dei pacchi Li mandate Fate concorrenza La posta tradizionale Cos'è l'attraverso Che vi distingue Ad esempio Cioè Lo strumento Di distensione Come si chiama la ditta? Post power Post power Aiuta Il cittadino qualunque Aiuta Il professionista di Modena Il professionista di Modena A fare che? A ridurre tempi di gestione La corrispondenza Te come parli figo Vai Attraverso cosa? Attraverso il servizio Che vengono i gabbiani A casa mia? No Allora Te lo leggo No me lo devi dire così Che lo capiscono anche questi qua Dello stello Aiuti I professionisti di Modena A gestire A risparmiare Il 30% I costi di gestione Da propria corrispondenza Aiuti I professionisti A gestire la comunicazione Le trasferimenti Scusami La corrispondenza La corrispondenza Attraverso la posta pneumatica Attraverso del gente che viene con i motorini Attraverso cosa? Il servizio postale I tempi di consegna Non è proprio colpa mia Il servizio è tuo Ma se non lo sai te Quello che fai Ma io che c'entro Scusa Mi guardi a me storto Mi devi dire attraverso che Scusa Io vengo qua a Modena Mi dicono Guarda c'è sto post power Che è proprio figo Lo devi conoscere C'è uno che si chiama Lì Che sta proprio qua dietro Allora gli dico Senti Ma sto post power Che cosa fa? Manda la posta? Vabbè non posso andare la posta Che vantaggio c'è andare lì? Attraverso che cosa Si realizza la loro specialità? Tu lo sai? No C'è qualcuno che usa post power? Oh Elena Enamo Cosa si differenzia Su post power? Lui viene a ritirare La corrispondenza Direttamente in un filo Attraverso un ritiro Personalizzato Presso la tua dimora Con certificazione Della consegna Con certificazione Della consegna Oh ma Voi assume C'è gente qua Stai 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 La giacca blu Ce la devi vedere No Non importuniamo Chi non conosce ancora Però ci presentiamo Buonasera Robin Lei ha un'azienda? Sì Amo e formigine Aiuta Chi? Chi è che aiuta? Le casalinghe? Aiuta Consumatori Eh? Consumatori Consumatori Come andiamo qua? Aiuta consumatori? È poco È generico È molto generico Dice il signor Ma hai preso molto La provvista Ah hai ragione Una volta mi studi Eh beh proviamoci Però un pochettino di più Facciamo che aiuti Cioè I prodotti Amo E sono varie cose Giusto? Però tu potresti scegliere Una testa di ponte Nel senso che se tu vendi Le creme per il viso Cento volte di più Del detersivo Per i pavimenti Potresti dire Che aiuta Con le signore Signorine Che desiderano Apparire Sempre in forma Migliorare Attraverso Le creme A basso prezzo Ma di altissima qualità E ho capito? Hai visto? E ci abbiamo messo pure Il dove all'inizio C'è qualcun altro Che vuole tentare Barbara Barbara? No? Ok va bene Questo è il concetto Quindi lo risintetizzo Perché qualcuno Si è convertito Nel frattempo Azienda X Aiuta Che gruppo di persone Io la chiamo la tribù Qual è la tua tribù? A fare Che cosa? Attraverso Che metodo Che soluzione innovativa E semmai Optional Dove? Questa formuletta Si chiama La value Proposition Formula O anche la Unique Selling Proposition Ma noi non ce ne sbatte niente La possiamo chiamare anche Tigello E va bene uguale L'importante Che vi segnate La composizione La struttura Di questa cosa E ci provate A incastrare Le cose Le formule Dei vostri clienti Se le aiutate a comunicare O della vostra azienda Come ho provato adesso A fare con voi Ok? Questo è il lato Posizionamento Sto volendo tirare Un attimo Di nuovo Le fila Su internet Non c'ho speranza Se sono farmacia Se sono generico Se sono Amway Ho speranza Di poter Distinguermi dagli altri Di essere più visibile Raggiungibile Se mi caratterizzo Non avendo paura Di perdere clienti E specializzandomi In qualcosa Di ben chiaro E comprensibile Che non deve avere Dei nomi inglesi Ma molto italiani E molto chiari Posso usare A mio favore Il posto Dove sto Ma l'attraverso Il cosa ti do Per aiutarti È tutto Questo è il pilastro One Il pilastro du Che di cui ti ho accennato È la credibilità E la reputazione Sono così importanti Abbiamo detto Francesco Perché sono così importanti Su internet La credibilità E la reputazione Perché? Perché da lì Io ti ricerco Perché da lì Io ti ricerco No sto pensando Se Alice o Cecilia Ma sempre mi confonderò È Cecilia? Qual è la domanda? Perché è la credibilità Importante Su internet Per distinguere Chi mi crea valore E chi mi fa No non è questo Che abbiamo detto prima Non vorrei contraddirti Ma Perché è per essere Conosciuto Ma il consumo Sì è giusto Anzi quello che voi dite Però io miro ad altro Francesca Massimiliano Perché è così Cavolo importante La credibilità E la reputazione Su internet Ancora di più Che nella vita reale Per creare autorevolezza Comunque Dai Dai La reputazione Ah sono proprio Una sega io Nel senso che Prima abbiamo detto Che il primo stronzo Di ricordi Che passava qua fuori E aveva giocato A grande vinci Dimmi Fabrizio Perché tutti parlano E dobbiamo distinguersi Per fare la correnta Per fare la correnta Per affeccionare i clienti Perché mi devo pregare Potremmo entrare La testata Perché mi sono Prende E non Vai Ancora Non è uscito Ci ciuccia Non ho capito Ah fiducia Perché su internet Devono avere fiducia Cioè la fiducia Non è una cosa Che c'è ovunque Perché non si vedono Non vedono Ah gliel'avete fatta Ma cioè E sono cose semplici Che io Quelle che spiego Però lo vedete Ne ho parlato cinque minuti fa Già adesso Proprio Lombardia Nebbia Che dici Dico che su internet Qualunque stronzo Guru Figo O guru Che ti sta per fregare i soldi Che ha fatto Ha chiamato qualcuno bravo Grafico Gli ha dato i soldi Ha fatto un sito figo E tu ci sei cascato Come un coglione Gli ha comprato le cose E poi ti sei accorto Che non ti hanno venduto niente Perché l'hai fatto Perché c'aveva una facciata C'aveva un qualcosa Che ti è illuso Su quello che c'era dietro E quindi La seconda volta Dici Ma fammi vedere Se questo è veramente credibile E quindi vai a chiedere in giro Domandi a un altro Lo compari con altri Guardi che cosa scrive Chiedi a qualcuno Che ha già comprato i suoi prodotti Va a vedere le recensioni Sul TripAdvisor Di qua di là Quante stelline c'ha E prima o poi Viene fuori la verità No? Per questo è importante La credibilità e la reputazione Perché tutti possono essere FCA NASA Su internet Che non puoi aprire un sito Che si chiama NASA.it Stasera Che figo Ci saranno 200.000 pesci rossi Che ci abboccano Subito Perché qua sono tutti superficiali Se stanno sul telefonino Tutti il giorno Che camminano così E che come fanno a capire Se sei uno che li sta fregando Oppure no Cioè il loro livello di spessore Di analisi Le informazioni Quant'è? È così È grande Da qui Al palo dell'autobus Finisce lì Quindi Volenti o nolenti C'è questa superficialità Navigante In generale? È per quello Che voglio essere credibile Distinguermi dagli altri Investire Sul dare Perché Chiunque si può fare Bello Grosso Grande Promettere cose E poi Non ci stanno Ma se io vedo Sul sito di uno Le visi Le testimonianze di persone Che dicono Io sono venuto qua Mi hanno steso dei tappeti rossi Sono stati lì Mi hanno aiutato Oh È successo Senti Io non c'ho niente a che fare Con loro Però è un esempio calzante Io ieri Stavo A Genova Ieri mattina Che avevo fatto La prima tappa La sera prima E da Genova Dovevo andare a Bologna Con il treno Per fare la seconda tappa Che ho fatto ieri Ma avevo una situazione Anomala Avevo Due mani E tre valigie Pesantissime A Genova Ho risolto Perché l'organizzatore Dell'evento di Genova Mi ha accompagnato Con la macchina Stazione Principe Fino al vagone E me le ha passati E fino lì Ce l'ho fatta Stavo a Genova Dovevo andare a Milano Per poi cambiare Andare a Bologna Ha detto Tutta la notte Se arriva sto sogno Che arrivo al binario 14 Ho queste tre valigie Ci sarà il marocchino Ci sarà il pakistano Che faccio Scendo Non scendo Già avevo fatto le prove A metterle magari vicine Alzando il coso Tra trac Così Ma la terza Rimaneva sempre là Non c'era un modo Quindi sul treno Ho dormito male Sul treno Stavo stressato Alla fine ho detto Chiediamo al capotreno C'era una bella capotreno E io Due piccioni con una fa Ho detto Signorina mi scusi Hai un piccolo problema Ho tre valigie E a Milano Ho una coincidenza Dieci minuti Per andare Dal binario 14 Come nel sogno Al binario 19 Proprio E non è che c'è un servizio Qualcosa Che voi offrite Oltre al pakistano Ele mi fa Eh beh Mi chiede un po' troppo In effetti Oltre al pakistano Che le posso dire Ah aspetti però C'è questo servizio Che si chiama KKI Point Ma dico Non lo conosco Che è il numero? Sì glielo do 393 5 4 34 18 Benissimo E mi fa E se funziona Me lo faccia sapere Che lo dico altri E io subito Mancavano dieci minuti All'arrivo a Milano E ho fatto questo numero Il cellulare Signorina Avrei bisogno Di un ritiro bagagli Per trasferirlo Da un treno all'altro Sì Che giorno arriva? No sto già in treno Sto arrivando Ah a che ora arriva Oggi pomeriggio? No sto lì Fra dieci minuti Ah C'è qualcuno Che può andare A Milano e 14? Sì Possiamo mandarle qualcuno Mi dice la carrozza Per favore Eccetera Ah grazie Gentilissimo Ok io ho dato il numero Carrozza Eccetera Sono arrivato Dopo dieci minuti A Milano C'era fuori Dalla mia carrozza Uno con il cartello Robin Hood Con il carrello Con la divisa Tutto carino Con la barba Marco Caraccio Lo si chiamava E fatto so Ha tirato giù le valigie L'ha caricato Ah no Non ti preoccupare di niente Mi accompagna Lei Lei che fa nella vita Io ho detto Io cerco di aiutare Quelli che Tu sei Sei un grande Perché sei umile e modesto Accetti questi lavori Ma ci sono certi Che si scassano Che non hanno più voglia Di farle queste cose E io cerco di aiutarli Dandogli delle dritte Dei consigli pratici Avendoci io già sbattuto la testa Su come fare Per rendersi Esperti Conosciuti Visibili Apprezzati Dalle persone Su internet Che figata Oh Che carrozza La 7 Ah Ma come ti chiami Mi chiamo Robin Good Oh Ma dai Robin Good Ma che nome figo Che c'hai Ammazza Ma che fai Ma come fai a guadagnare E c'ho una scuola online E le persone si iscrivono Anzi Adesso ho smesso pure Di fare le iscrizioni Praticamente Le persone Che io gli sto simpatico Mi possono Dare un incoraggiamento Monetario Dai Mi prendi in giro No 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 Sul serio Siccome i miei soldi Mi stanno un po' Cazzo Ehm Cioè di preoccuparmi Sempre dei soldi E io Ho Ho trovato Un servizio americano Per cui Le persone Che dicono Ah oh Dei Robin Ce ne vorrebbero di più Fammelo vive Qualche anno in più Possono andare Su Su un sito E farmi Praticamente Delle donazioni Anche fisse Che ogni mese Mi danno Un euro Un euro Un euro Ah dice Simpatico Ma come fa a sopravvivere Con un euro No Ci sono quelli che mi danno Un euro Ma ci sono quelli che mi danno 25 euro Quelli che mi danno 50 100 200 300 Ma così proprio Eh ma Come mai Altri ti danno 300 Altri un euro Beh a seconda di quello Che loro mi danno Io gli do un po' di più Cioè quelli che mi danno Un euro Gli dico Grazie Quelli che mi danno 25 euro Gli mando il libro In più Gli do Che ne so Un canale riservato Dove loro ogni giorno Mi possono fare una domanda Audio Oh Robin Senti ho visto su Facebook Ma tu che ne pensi E io gli rispondo Ah figo Mazza E insomma Dai e dai Io gli ho spiegato La mia cosa Intanto poi Lui è salito Sulla carrozza Mi ha riempito tutto quanto Poi è sceso giù Eravamo diventati amici Io E questo qua Key point Ma chi l'aveva mai sentito Non sapevo come Regolarmi queste valigie Quindi Qual è il punto Il punto è Che se vai Un po' oltre il dovuto Ah c'è qualcuno E se trovi Delle soluzioni Immediate per le persone E se le tratti In maniera particolare Si stringe Un'alleanza Un rapporto Ci siamo fatti Il selfie Con Marco Caraccio Sta sulla mia pagina Di Facebook Di ieri Con tutta la storia Di quello che è successo Raccontata E io sono qui Come cerchiamo Come cerchiamo di farci Conoscere Perché ecco A volte le strade Indirette Sono forse Quelle più interessanti E funzionali Se mi chiedessero Keypoint È affidabile Io fino all'altro ieri Avevo detto Ma chi è Come si scrive Adesso non solo so Come si scrive Ma direi che Gli direi tutte queste belle cose E direi Guarda cazzo Big Keypoint Ho avuto una storia fighissima E chiunque la sentirebbe Rimarrebbe così impressa Che la prossima volta Che c'hanno un problema Del genere Chiameranno Keypoint Cercheranno il numero Su Google Questa credibilità Questa reputazione Che è nata Dal far bene Il loro lavoro Essenzialmente Niente di più Di non preoccuparsi Di spingere O di gridare O di urlare È vincente Non ha Non ha ostacoli Che si possono frapporre Lungo il suo cammino Quindi io non vi vorrei Rimambire di duemila cose E C'ho qualche esempio Importante Che vi posso lasciare Da portarvi a casa Come la formula Di prima Vi ho lasciato qualcosa Di concreto Per me Perché la domanda Mi immagino sia questa Se io voglio essere Più credibile Aumentare la mia reputazione E autorevolezza Su internet Che cosa Mi consigli di fare Perché non ce l'ho I carelli Per ritirare le valigie Non so Non saprei come tradurre La storia che mi hai appena fatto In qualcosa di pratico per me Io quello che suggerisco è Smetti di produrre contenuti A manovella Che vanno fuori su internet Perché te l'ha detto qualcuno Perché c'è l'agenzia che lo fa Eccetera E prendi in considerazione Anzi Perché non è che devi fare Devi solo domandarti Se non valga la pena provare E vedere cosa succede Prova a creare Dei contenuti Che vanno fuori dagli schemi E che danno vero valore Alle persone Robby mi fai un esempio Per favore concreto Chi mi presta la sua borsa nera Di ESC per cortesia? Cecilia? Grazie Dentro questa borsa Cosa ci sta? Acqua Che la vorrei anch'io E le altre cose No una No no Basta una Questo oggettino qua Che ce l'avete tutti quanti In teoria Se siete passati Dalle forche caudine Non si scampa Là ve lo danno Dentro la borsa nera È un articolo? È un blog post? È una promozione di Facebook? È una roba che me la leggo? Ah un altro di questi Ti riempiono sempre Dei brochure Promozioni Questo è uno strumento Per chi E non sono pochi Oggi vuole usare i video Su internet Perché che ci sta qua Robin? Ci sta qualcuno Qualche deficiente Che ha speso Qualche centinaio di giorni Per scoprire E testare Collaudare 54 servizi diversi Che servono ognuno A fare una cosa diversa Non 54 che fanno la stessa cosa Cosa di più diverse Vuoi fare un webinar con i video Margaret Vuoi fare Dare dei feedback C'è il tuo cugino Che fa i video Te li manda E tu gli vuoi dare feedback Scrivendo sui fotogrammi del video Ah qua Lui sta un po' storto Qua ci vorrei che apparisse il logo Qua ci sono tutti strumenti Gratis O quasi gratis Che tu puoi andare a utilizzare Istantaneamente Se tu dai alle persone Una cosa del genere E ti fermi E gliela spieghi Perché spesso Essendo abituati A avere solo cacca Dentro le borse Non ci facciamo neanche caso A quello che ci danno Ma se tu glielo spieghi Ma quanti eventi uno può andare E dove deve andare E chi deve essere lo spieghi Per trovare una cosa del genere dentro Me lo dovete dire voi Perché io ci voglio andare A questi eventi E voglio conoscerli Questo è creare credibilità Non mi voglio far bello Perché io Io l'ho copiato L'ho proprio copiato 100% Ma non Da una cosa di questo tipo Io ho copiato solo Foglio a 4 Piegato 3 volte Scoperto per primo in parrocchia Con dentro delle preghiere Riscoperto Ad un'età più avanzata Da una ditta Di alimenti naturali Bioalimenti Vitamine Minerali Amminoacidi Che oggi prendiamo tutti quanti E Che cosa ha fatto questa ditta Siccome sa Che le vitamine Minerali Gli aminoacidi Chi li compra Chi vuol stare bene Chi vuol stare in salute E io sono uno di quelli E per stare in salute Quando mi vado A fare peccato Al bar Che voglio comprarmi Non è il mio caso Una Red Bull O un'altra cosa La prima cosa che faccio È giro la lattina E vado a Ingredients Mi vado a vedere C'è lo zucchero C'è lo sciroppo di glucosio E poi che mi vado a vedere La mia squadra del cuore E322 E224 E142 Che tu non sai Che cazzo sono Questa roba Questa ditta Cosa ha fatto? Un foglietto come questo Verde Dove inizia con E101 E finisce qua in fondo E999 E per ognuno C'è scritto accanto Innoquo Devi al cancro Ai coglioni E via dicendo Cioè ti dice Per ogni sostanza Se è dannosa Utile Se devi stare attento Se è meglio che entra a bevi Che poi dopo Un po' più Tornare indietro E io lo trovo Così utile E fantastico Che me lo sono portato indietro Sempre A un sacco di eventi Dove le persone sono venute Hanno visto sto foglietto Con E301 E tutte le altre cose Allora ho detto Ma io vado a un evento Parlo di credibilità Gli devo far vedere Un contenuto di valore qual è Ma copiamo sto foglio a 4 Copiamolo in 3 Io non sono esperto del 323 Sono esperto di video Grazie a Silvio E quindi Ci posso scrivere Tutto quello che ho scoperto A me che mi costa Dice ma perché non glielo vendi Cazzo adesso che ho capito Tutto quello che ci hai messo dentro Perché io ci guadagno Molto di più nel tempo Avere la tua fiducia E credibilità Nel farti vedere Io questo Nonostante ecco Non è una cosa che dici Sai mi siedo Ti siedi E mi fai uno come questo A chi lo chiedi Cioè ci devi avere uno Che cazzo Le sa queste cose Che le ha provate Che ci ha sperimentate Di nuovo Questo non appare Quando lo prendi in mano Qualcuno te lo deve dire Però ecco Se conosci Robin Hood E sai quello che fa Dice ma quanti anni Gli è so voluti a lui Per scoprire questi tool Che non è che vai Sai fammi andare a vedere su Google Mi prendo un po' Li copio in collo qua No Non ci riesci Questa cosa Così come l'altra Che state tutti là Oddio Sto su Facebook Madonna Ma che posto Oh Vieni qua Ti appendi sta cosa Vicino alla scrivania Vai Oddio Fai così Dice che c'è scritto Lo sapevi che E che è Robin Gli fai un post Che gli dici Lo sapevi che Quando ti mangi il sale Dopo Dai e dai e dai E diventi una botte Oh no A me mi piace tanto il sale E gli fai un bel post Poi dici Il giorno dopo Bang Che è qua Open Clinic E che è Robin Open Clinic E gli fai fare Un webinar Dove loro ti fanno Le domande a te Ah Chi ce l'aveva mai pensato Bella E domani Illustra Spiega servizio Beh questo Si spiega da solo Ma noi stiamo là A rovellarci il cervello Per fare dei post Che poi alla fine Sono sempre tutti uguali Cioè scritto Tutto maiuscolo Oggi Offerta speciale Punto 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 scamativo Muscolo 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 Faggina 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 Ma che cazzo Ma siete rincoglioni tutti quanti Ma cioè Ma perché dove fai pulcinella Ma se io ti incontro per strada C'è un'azienda Sto sul marciapiede Ti incontro E tu me fai Una scenata così Ma io che penso De te Ma sei un deficiente Ma perché allora Lo fai su Facebook Eh Robin Lo fanno tutti Dai Cosa sarà mai Ma per me Sei proprio fuori di testa Cioè Io non mi posso fidare Di un'azienda Che sta lì A strillare Cioè Anche perché poi Scusa Francesco Tu quando guardi sti post Che promozionano le cose Su Facebook Tu stai sul tuo computer Stai a guardare Facebook Stai a guardare quel post Quanti pullman di amici Ci stanno Intorno a te Cioè Quanta gente invidi Tu quando guardi Facebook Sei da solo Allora Allora Mi dovete spiegare Perché continuate a scrivere Noi della farmacia Sanzotto Vi invitiamo A provare i nostri prodotti Qui da noi Stasera Offerta 30% Ma dove stanno Sti voi Sto qua da solo E poi che cazzo Mi scrivi tutto Maiuscolo Alla prima riga Tutto maiuscolo Tutti questi punti Scamativi Cioè Io sto qua Oh Il computer È questo Lo schermo è qua C'è il post tuo Cioè Sto lì Lo sto a legge Ma che cazzo urli Ma sei scemo Cioè Stiamo a parlare Io e te Perché tu non è che Vedi sei post No Dici Ah questo urla No Stanno uno un filo all'altro Uno alla volta Li vedi Allora Che cazzo Ti urli a fare Dimmi le cose piano E io Quindi la regola Prima che gli insegno Gli insegno Che gli suggerisco Ai miei amici Studenti O persone che do una mano O aziende Di fare Eh Punti escamativi Basta Cioè se ti viene in mente Il punto escamativo Dì Punto escamativo Dì Io non c'ho un cazzo da dire Mi devo inventare qualcos'altro Perché se ci devi in mente Il punto escamativo Dì Non c'hai roba Non c'hai niente Le maiuscole Lasciate perdere Le concine Vietate Come Uncestuosa Cosa vietata Tabù Proprio Non deve esistere Eppure basta così poco Perché Se tu adesso Vai su internet E noti un post Che ti dice Delle cose interessanti Non scrive tutto maiuscolo Non urla Non strilla Eccetera Tu lo noti Perché strillano tutti Tutti strillano Non è che c'è qualcuno calmo Che ti dà informazioni Utili E funzionali Io mi domando Ma che ore sono? 8 meno 10 Un buon orario Un orario Che uno Gli viene sete Gli viene fame C'ha voglia di far roba Quindi Robin Vai un po' Giù nel Casello di uscita Accendi il telepass Come potresti concludere? Ah Certo Senza slide Un goccio sola Se a te Queste cose Che io ti ho raccontato E ne ho raccontate poche Bisogna che questi tour Faccio delle sessioni più lunghe Mi devo far fare delle flebo prima Ma Se un amico ci vuole Un po' più di tempo Per spiegare Dovremmo iniziare un po' prima Se queste cose ti interessano E vuoi andare un po' oltre Immaginarti che io abbia Altre due ore Da spiegarti cose Eccetera Voglio Che tu sappia Che Quel libretto Che c'è Là fuori Su un tavolino Che si chiama Da brand a friend Include tutte le cose Che ti ho detto oggi Con tanti esempi concreti E include anche altri principi Tanto importanti Quanto questi Di cui oggi Non ti posso parlare Quindi Te lo dico solo Perché Il mio ideale Qualcuno vada via Con l'appetito Che gli rimane E se non vuoi Aspettare un altro anno Che ci rivediamo Da qualche parte Se non ti basta Quello che ti do Online gratuitamente Che dai Online gratuitamente Roby Aspetta Il libro Da brand a friend Che c'è disponibile Là fuori Contiene tutte queste informazioni Ed è un racconto Un po' Anche delle storie Che mi avete sentito fare Di Silvio O di altre Ancora più divertenti Di ghiaccioli Di sgiochei Che mi hanno fatto arrivare Dove sono adesso Quindi per chi vuole approfondire Io lo consiglio Vivamente Di dargli un'occhiata A quel libro Perché ci sono Tante informazioni È molta poca fuffa Anche se questo Suona molto poco presuntuoso Era doveroso dirlo Cosa dai di gratis Robin Online? Se ti interessano Questi argomenti E vuoi approfondirli Io rispondo Gratuitamente A qualsiasi domanda Di chiunque Qualsiasi giorno dell'anno Anche Natale e Pasqua Ferragosto Sulla mia pagina Facebook Che si chiama Robin Good Italia Ma no che vieni lì E mi scrivi il tuo messaggino privato Oh bene Io ho questo problema In azienda Vieni sulla bacheca E scrivi davanti a tutti Qual è il tuo problema Perché se vuoi Farti i cazzi Tuoi in privato con me Paghi Chiami la mia segretaria E dici Che posso prenotare Sto Robin Mi voglio una consulenza Notantum Come tutti Quindi Io però Sono disponibile per tutti Quindi se tu non c'hai segreti Che c'hai paura Che ti copiano le idee Che questa è un'altra idea Proprio sbagliata Vieni Robin Io ho questo sito Mi ci dai un'occhiata Mi dici che pensi Oppure Robin Io ho avuto questo problema Mi hanno detto di fare così Tu che pensi Sia un'idea buona o no Rispondo A tutti Gratuitamente Entro 24 ore Vedi un po' Se ti può essere utile Due Ho una newsletter Che esce una volta La settimana Che si chiama Top Tools È gratuita Che c'è dentro Interessante Perché mi dovrei iscrivere Perché uno Ti racconto De quanti galli hanno volato Questa settimana A Terzeira E ci sono dei bei racconti divertenti E due Poiché la mia grande passione È di testare Collaudare nuove tecnologie Ti dico Quali sono i tre tool più fichi Sui 7, 8, 9, 10 Che ho scoperto Quella settimana Che io ti consiglio di usare Che sono tool utilissime A chiunque fa comunicazione Marketing O usa internet Per fare Per essere produttivo Creare delle cose Questa newsletter Robin dove diavolo La trovo Sempre sulla pagina Facebook Robin Good Italia C'è un bottone in alto Di Facebook Che c'è scritto Iscriviti Se lo premi Ti puoi scrivere La newsletter Facile Ci sta un podcast Che si chiama Come il libro Da brand a friend Dove ho iniziato Da due mesi soltanto Mi sono sverginato Su questo fronte A raccontare le cose Che altri fanno in video Ah Robin Avevo visto i tuoi video Mi piacevano tanto Perché hai smesso? Perché io sono sempre controcorrente Ho iniziato Nel 2005 A fare dei video Non ci stava neanche YouTube Non esisteva YouTube E se vai sui miei canali YouTube Che ce ne sono due Uno inglese E uno italiano Ci sono Migliaia di video Forse non tutti fatti da me Ma ce ne sono tanti Quindi non è che Il video a me non piaccia Non lo voglia fare Però poi dopo un po' di tempo Mi sono rotta anche io le palle Sono passato a fare qualcos'altro L'anno scorso Ho ripreso a fare un po' di video Dall'isola Insieme ai Galli Ce n'è anche uno Che racconta proprio La storia dei Galli Però dopo un po' mi sono detto Ma io faccio la differenza Con questi video Creo qualcosa di veramente utile Alle persone Che gli possa rimanere nel tempo E di fronte a tutti Sti Montemagno De Benedetti Scandellari Fate voi nomi Tutti simpatici Tutti Li considero degli amici Che stanno già loro Stanno già lì a macinare Come dei treni Che fanno uno al giorno Ma io che differenza posso fare E quindi ho pensato Che era giusto Ritirarmi tranquillamente Lasciarli sfogare un po' Poi magari Tra un po' di tempo Ritornare Ma penso che uno Le cose che fa su internet Deba fare Con un senso No? Perché mostrano a fare tutti i video Faccio i video pure io Quindi Anch'io Che Diciamo Qualche piccola esperienza Un po' di pelo Ce l'avevo Per fare i video Ho pensato Che forse Non Devo cominciare Ancora a fare io i video Lasciamoli sfogare Aspettiamo un momento Che hai qualcosa di importante Proviamo L'audio Proviamo i podcast Anche perché A me piace questa idea Perché quando ascolti qualcuno A parte il vantaggio Che l'ascolti Mentre vai a fare i giochi Mentre stai cucinando Mentre vai al lavoro Mentre stai in treno Tutte cose Che col video Difficilmente puoi fare L'immaginazione Runs wild L'immaginazione Corre libera E selvaggia Quando tu senti una voce Magari non l'hai mai conosciuto È come sentire una musica E non aver visto il video Secondo me Molto più figo Perché come tu vedi Il video di quella musica E il video te lo costringe Dentro una gabbia precisa Mentre finché tu l'ascoltavi Ti immaginavi Il cantante era negro Invece è bianco E ti immaginavi Ti sentivi quei violini O quelle percussioni In una certa maniera Come li vedi nel video A seconda di come li hanno interpretati Cambia tutto E di solito È costrittivo È diminutivo Raramente Aumenta o espande Quello che tu potevi aver immaginato E quindi ho pensato Che il podcast In questo momento Sta più avanti Dei video Perché io lascio Lo spazio alle persone Di interpretare Di immaginare Quello che gli racconto Con le loro idee Non glielo impongo In maniera precisa E quindi mi dà soddisfazione Anche fare questo Non vi voglio rompere Con tutte le altre cose Ma ci sono tante altre iniziative Che ho online Riviste Collezioni di tool Soprattutto Ecco magari Se te lo vuoi segnare Su ZIF Un servizio pubblico Che si chiama ZEEF.com Ho creato tante collezioni Di tool Cioè Poiché collaudo Continuamente tool Ho creato Delle collezioni tematiche Tutti i tool Per fare i video Divisi in categorie Tutti i tool Per fare content curation Tutti i tool Per trovare notizie Dove le vado a cercare Sono sempre a cercare Nel stesso posto Dov'è che ci sono posti Dove posso trovare notizie Che gli altri non hanno Tutta una pagina Piena di centinaia Di tool Per trovare contenuti Alternativi Io continuo a fare cose Di questo tipo Perché dovessi Andare a sbattere Contro un muro Mentre guardo Lo smartphone Sono sicuro Di aver lasciato Qualcosa di interessante Qualcosa di cui Essere orgoglioso Qualcosa di cui Chi di voi Mi apprezza Potrei dire Ai suoi amici Oh però Robin Guarda che cose faceva Qua ci stanno A me questo è quello Che mi dà Più soddisfazione Quindi Se vuoi approfondire Ti suggerisco Di dare un'occhiata A quel libro Se vuoi tornare Qua dopo Ti faccio volentieri Anche un autografo Se vuoi vedere Robin Andare avanti nel tempo Vedere altri Robin Crescere Diventa mio sostenitore O prendi in considerazione Questa possibilità Mi trovo un po' a disagio A proporre Delle cose da vendere Ma anch'io Ho bisogno Del sostegno Delle persone Non tanto dal punto Di vista economico Quanto dal punto di vista Di sentire moralmente Che quello che sto facendo Per voi è importante E Che è un percorso Così un po' Contro Tendenza Che voi pensiate Deba essere Sostenuto Quindi Vi ho dato Due alternative Io sono arrivato In fondo Ciò che mi interessa Di più È quello che vi ho detto All'inizio Condividere Con le persone Creare nuove relazioni Conoscere Andrea Alessandro Margaret Il gruppo Ace Matteo Enrico Le due barbare Le signore di Amway Per me è un gran godimento Avere questa cosa Perché Per me Il regalo più grande di tutti Che uno ti può fare Lo sai qual è? Dedicarti il suo tempo Sederti su un gradino Di una strada La sera Donde c'è nessuno È stare con una persona Che ti dedica Un po' Del suo tempo Che ha voglia Di ascoltarti Che non ti giudica E ti incoraggia Dovunque tu sia diretto Non penso ci sia più Cosa più gratificante Di questa Quindi Io ti devo ringraziare Perché tu me l'hai data Prestandomi tantissima Attenzione oggi Molto più Dei tipici 45 minuti Sul gradino Di una stradina notturna E quindi ti sono Veramente grato Grazie Di cuore Grazie Grazie Assiste Sì Accompagni Le aziende Nell'individuare Nello sviluppare Nell'opportunità di business Attraverso il coinvolgimento Delle persone Che possono essere Interessanti A dare loro Servizie Questo facciamo In cinque parole Spero che sia stata Una serata interessante Che vi abbia portato Cultura Ci hanno fatto sicuramente divertire L'idea è costruire L'idea che dominesca Costruire una serie Di incontri nel tempo Quindi magari Che costa a tenere Nel prossimi mesi Per coinvolti In un altro evento Che stiamo organizzando Per adesso No C'è una sorpresa grandissima La sorpresa La sorbreranno fuori Eh sorpresa E quindi non ve la dico Ma hanno una grandissima sorpresa Abbiamo provato a Costruire qualcosa In real time Quindi Un vero contenuto di valore Esatto All'esterno Quale cosa che abbiamo pensato Per voi L'abbiamo costruito Mentre voi Avete qui Ad ascoltare la bimba Quindi approvate E via l'uscita Grazie 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 Grazie